Benvenuti, benvenuti cari amici siamo qui di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il botone like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale Telegram oggi andrò a parlare dell'exchange Ascendex però più in particolare andrò a tradare short Shiba Inu per cui andrò a vedere quello che succederà ovviamente ti ricordo che sotto in descrizione trovi il mio referral link e avrai anche 20% di sconto su Ascendex e per cui iniziamo subito per cui andiamo subito a vedere come trado Shiba Inu ma prima vorrei mostrarti anche quelli che sono i vari token che puoi trovare letteralmente su Ascendex ne trovi svariati, tra l'altro alcuni sconosciuti che puoi trovare solamente su determinati exchange come Dogpad, TheGen, PC quindi in cui puoi trovare veramente grande opportunità soprattutto all'interno del mondo meme quindi vatti a fare un giro letteralmente su quest exchange e soprattutto secondo me è molto interessante andare a tradare determinati token come ad esempio Jim, ti ricordo primo meme dell'intelligenza artificiale che trovi su Ascendex e tra l'altro iscriviti con il mio link sotto in descrizione ma avrei anche 20% di sconto su Ethereum fees quindi assolutamente secondo me da approfittare il tutto e ora andiamo a vedere come sto tradando letteralmente Shiba Inu in questo momento ho aperto due posizioni come ora vedrai la prima ok sono sopra del 5% la seconda sono sopra del 3.45% quindi direi assolutamente non male nella prima ho investito 20 dollari leva 20x giusto così per andare cauto nella seconda invece ho messo 200 dollari USDT come puoi vedere ho aperto una posizione short che cosa vuol dire short che inizio a guadagnare quando il token inizia a dampare quindi come puoi vedere Shiba sta letteralmente dampando in questo momento mi sono fatto un due calcoli, due ragionamenti, mi sono posto a resistenza a 1000 e poi mi sono detto giù c'è una prateria ok perché non andarla a sfruttare e così farò ok questa è il momento è la mia idea ovviamente chi dentro del gruppo cowboy è già stato avvisato il tutto te lo ricordo ma vorrei mostrarti ok come anche funziona tradare su Shandex come puoi vedere qui ho 1487 dollari in portafoglio per ora ma penso andrò a aumentare pian pianino questa piattaforma mi piace tantissimo 634 dollari li ho destinati ai future come si fa? basta cliccare su transfer ok letteralmente tu hai dei ok del denaro di USDT che ti porti da da per l'appunto è quello qua il USDT che ti porti da l'account spot ok quindi questo qua cash account verso i future ti basterà cliccare transfer e te li porti letteralmente dentro ok poi impostazione leve semplicissima ok ti basta andare qui sulla leverage per Shiba danno una leva fino a 20 probabilmente vogliono cautela io ho impostato questa leva ok 20 ovviamente se sei uno vizio che opera con la leva più bassa devi sapere quello che stai facendo devi farti i calcoli e così via e soprattutto puoi impestarti i take profit che io ho impostato guarda qui a 945 ora te li zoom ok 945 e il stop loss l'ho messo a 1400 quindi in caso prenda 1400 mi vale letteralmente a chiudere la posizione per modificarli basta andare sulla pennina eccolo qua ti metti i numerini qui come ho messo io e sei letteralmente dentro e pronto a tradare quindi direi exchange super semplice da utilizzare prova ma dico un poco all'inizio e poi man mano che ci prendiamo a mano insomma vedi te ok se sei bravo ho una confusione perché non è così semplice quindi questa è la media su Shiba resistenza abbiamo detto questo aumento a 1001 ok come vediamo è d'altra parte una paraderia quindi ho messo 1400 nel caso dovessero imparare alzo amen ok per la posizione ma non penso che succederà questa in breve più facile al contrario poi ovviamente ti ricordo anche gruppo cowboy ho letteralmente avvisato se vuoi seguire quelle che sono le mie operazioni ti basta andare ovviamente su Ascendex io sono copy trader su derivatives trader procurement ok non ti comparirà l'opzione become a trader ma scrivendo samubit troverai letteralmente vedrai quelle che sono le mie operazioni fatte finora poi volevo parlarti anche del token secondo me molto interessante il token SD in questo momento addirittura 4 centesimi veramente una roba pazzesca perché te lo mostro subito questo token durante a buran guarda dove partiva cioè assurdo si è arrivati a 3 dollari e secondo me non dico che questo è il momento però quasi ok secondo me è molto interessante ok questo token soprattutto in prospettiva futura ok vedremo ovviamente una grande scommessa grande scommessa però che potrebbe far fare grandi numeri quindi vuoi anche tu tradare il token SD iscriviti come per fare il link avrai anche 20% di sconto sui trading fees quindi approfitta ok perché tra l'altro anche trading fees bassissime in questo momento su Ascendex è uno dell'exchange con veramente trading fees più basse poi anche la sezione earn dove puoi guadagnare API attorno al sito e cripto tra l'altro le API sostenibili ok nel tempo ci tengo a questo quindi secondo me non è assolutamente un exchange che scammerà questa è un po' l'idea e hai anche i BRC20 i BRC20 sono molto rischiosi perché poco capitalizzati però interessanti ok soprattutto in prospettiva futura quindi eventualmente valuto ma secondo me è molto interessante anche andare a tradare lo stesso SD quindi voglio mostrartelo però guarda che variazioni a giornaliero quindi magari prenderlo su uno scarico venderlo scarico venderlo ma neanche più volte al giorno può essere molto interessante ok questo è un po' l'idea poi volevo farti vedere anche quella che è la posizione Ascendex ok su derivati posizionano 1,3,3 75 milioni di volumi e comunque commissioni molto basso ok 0,02 in entrata 0,06 in uscita di vendita quindi molto interessante e infine volevo mostrarti anche come io finora ci ho destinato circa 1.500 dollari ci andrò anche a fare altri video perché è un exchange che mi piace molto e probabilmente andrò a allocare ancora USDT quindi per ora sto facendo delle prove secondo me è un exchange molto pulito molto interessante che ti consiglio anche perché hai 20% di sconto sulle tele in fisco il mio link che trovi sotto in descrizione e per questo se ti è piaciuto questo video ti ricordo di subito il botone like, iscriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre